Samsung Electronics Italia è leader di mercato nella mobility e nel mondo della security ha Samsung Knox che è una piattaforma che ci permette di dare al canale soluzioni di Enterprise Mobility Management e mettere in sicurezza i device nei vari ambiti delle aziende Enterprise. Nel mondo dell'industry 4.0 il mercato in questo momento è molto variegato e le soluzioni sono molteplici e Samsung si approccia in questo mercato facendo focus principalmente su due ambiti, la mobile economy che è il trend importante di quest'anno e dei prossimi anni ad avvenire e il mondo IoT. Attraverso le nostre piattaforme riusciamo ad offrire delle soluzioni alle aziende che gli permettano di mettere in sicurezza i loro processi aziendali. Oggi la percezione nell'ambito Enterprise non è molto alta e soprattutto gli IT manager non si sono focalizzati sulla problematica riguardante gli smartphone e i tablet per cui Samsung ha per loro una soluzione basata sulla piattaforma Knox che gli permette di gestire in ambito aziendale questa criticità. Sicuramente il GDPR ci ha dato la possibilità di approfondire questo argomento e attraverso la piattaforma Knox riusciamo a dare ai nostri clienti una soluzione importante e sicura. L'ambito finanziario è sicuramente il mercato che ad oggi è più preparato ad affrontare la cyber security, ad approfondire e approfondire questo argomento, mentre in altri mercati verticali è ancora molto importante sensibilizzare i CIO e gli IT manager sul mettere in sicurezza i dati sul mondo mobility. Knox platform è la risposta a questa esigenza aziendale.